Certo, questa è stata una situazione molto particolare, dove ci siamo ritrovati tutti senza avere un minimo di esperienza, perché naturalmente per tutti quanti era una situazione nuova, difficile, ma per quanto riguarda il discorso che la gente comunque la spesa l'ha fatta con più frequenza, ha dato modo, secondo me, di capire meglio quello che era il nostro servizio, servizio che punta molto sulla freschezza, sulla qualità. Io credo che anche l'informazione che è stata data in questo periodo è stata utile, fondamentale per i clienti, perché sono riusciti a capire la differenza sostanziale tra quello che si può trovare in un determinato supermercato e in un altro. Noi da parte nostra ci abbiamo messo tutto l'impegno e non è stato facile, ma siamo stati sempre supportati e abbiamo portato avanti con impegno e con un ottimo risultato e credo che questo paghi anche in futuro, nonostante che il periodo poi naturalmente vada in senso inverso, perché chiaramente la tendenza sarà quella di calare, quelle che sono le quantità di vendita, ma credo anche che comunque sia tutto quello che è stato fatto in questo periodo sia fondamentale per riuscire a tenere e fare meglio, ancora rispetto a prima. Io credo che nel tempo si sia creata una fidelizzazione e i clienti l'abbiano capita, lavorando costantemente ogni giorno con impegno e dando loro la possibilità di poter vedere sicuramente altre realtà, ma poi alla fine decidere di tornare da noi. E questa è stata la cosa più importante, più gratificante per chi tutti i giorni si impegna dietro i banchi. Cos'è cambiato? È cambiato tanto sostanzialmente, anche se in apparenza il banco a livello metrico è rimasto lo stesso, ma è cambiato fondamentalmente tutto quello che riguarda l'informazione e credo che l'informazione sia uno dei punti più importanti per un cliente. Rispetto a prima, durante l'inaugurazione, dove avevamo una linea omogenea rispetto a tutti gli altri supermercati, all'interno del nostro punto vendita è stato ricreato un banco diverso. Diverso perché? Perché è stata creata una sorta di prodotto, sul quale poi è stata messa una cartellinistica informativa che dà la possibilità nell'immediato di riconoscere piacevolmente tutti i prodotti che ne fanno parte. Per ogni settore, per ogni sezione dei nostri banchi si è voluto dividere per tipologia le varie carni, dalle quelle bianche, da quelle rosse, dai pronto cuoci, dagli elaborati e tutto questo è stato fatto in maniera tale da poter dare al cliente la possibilità di riconoscere nell'immediato il prodotto che si vuole scegliere, senza spaziare alla ricerca di un prodotto o dell'altro. Il biologico è una tipologia che naturalmente sta prendendo piede nel corso del tempo sempre di più. Abbiamo potuto constatare che comunque la clientela, la nostra clientela fatta di gente giovane universitaria e di gente che comunque ci tiene a certe cose, ha fatto naturalmente la differenza. Abbiamo avuto un consenso assoluto nel giro di pochissimo tempo e questo ha dato la possibilità di crederci interiormente. Abbiamo avuto due tipi di clienti che si sono avvicinati maggiormente. Il cliente tipico che ha sempre consumato comunque carne ed è abituato a farlo ma che è alla ricerca di un prodotto nuovo, più salutare, più salubre e l'altro cliente che comunque non era particolarmente propenso alla carne ma che col biologico si sente più sicuro, si sente più tranquillo di avvicinarsi ad un prodotto che gli dà la possibilità di entrare in punta di piedi, lo chiamo io, verso questo mondo. Noi abbiamo una fascia giornaliera che cambia all'interno del nostro punto vendita perché la tipologia dei clienti stessi cambia. Noi la mattina abbiamo dei clienti che vengono a fare la spesa per abitudine perché hanno comunque una certa età e sono abituati ad essere serviti perché tradizionalmente sono sempre stati abituati ad essere serviti a banco quindi principalmente preferiscono essere serviti al banco assistito. Ma nel corso della giornata, tornando al discorso della differenziazione dei clienti, noi avendo una grande affluenza di gente molto giovane che frequenta l'università qua vicino, abbiamo dei clienti appunto che vengono e si servono nel take away perché comunque sia è una generazione diversa ma soprattutto perché riescono a ritrovare quei prodotti anche nuovi che abbiamo inserito e quali soddisfa perché hanno bisogno di poco tempo per la cottura e di conseguenza loro si trovano molto bene a servizi sul take away nelle euroserali o nel primo pomeriggio. Io ho selezionato questi due prodotti principalmente perché si suddividono in due categorie completamente diverse ma che allo stesso tempo stanno riscuotendo un grande successo e parlo anche per categoria. Nella mia mano destra ho il petto di pollo biologico che ha una vendibilità, è un alto vendente proprio perché comunque è un prodotto che comunque è sempre stato consumato in linea di massima da quasi tutti a livello normale come petto di pollo ma essendo stato creato una confezione del genere biologico il cliente che di abitudine comprava il petto di pollo si è spostato ricercando quella che secondo lui è un prodotto più qualitativo e più salure. Dall'altra parte invece abbiamo un prodotto che rispecchia l'altra categoria di clienti che abbiamo all'interno del nostro supermercato e sono i clienti giovani, i clienti che hanno poco tempo per cucinare o non ne hanno le caratteristiche. Di conseguenza si affidano ad un prodotto genuino, sano, fresco ed è veloce comunque da fare. Grazie a tutti.